Le squadre che hanno speso di più in mercato, la posizione della Juve sorprende tutti. L'Osservatorio ci ha stilato la classifica delle squadre che hanno speso di più nel calciomercato negli ultimi cinque anni. Tra i bilanci in negativo, la Juventus si piazza al nono posto con un deficit di 337 milioni di euro. È la prima delle italiane e l'unica non inglese nella top 10. Le altre squadre in classifica, c'è sì la peggiore. Benfica miglior bilancio la squadra con il peggior bilancio è il Chelsea, con un deficit di 749 milioni. A chiudere il podio Manchester United, 670, e Arsenal, 544. A seguire troviamo il Tottenham. Il West Ham, il Newcastle, l'Aston Villa e l'Wolverhampton appena sopra la Juventus. Chiude le prime dieci posizioni il Liverpool. La seconda dell'italiana è il Milan con un deficit di 227 milioni di euro. Tra i migliori bilanci invece, c'è il Benfica a guidare la classifica con un più 370. Poi Lille, più 308, e Ajax, più 292. La prima tra le italiane qui è l'udinese, in positivo di 131 milioni. Mentre la seconda è il Sassuolo con un più 73. Virgola.